Il voto in Lombardia si terrà il 17 e il 24 febbraio, così il ministro dell'interno cancellieri ha spiegato che si andrà alle urne lo stesso giorno per le elezioni politiche e per quelle regionali. Intanto la Lega frena sull'alleanza in Lombardia e a Roma con il PDL. Ultimi giorni di campagna elettorale per le primarie del patto civico, ieri è arrivato l'endorsement del segretario del PD Bersani per Ambrosoli, ma la vera sorpresa sembra essere Andrea Di Stefano, giornalista specializzato nel campo dell'economia etica, che continua a riscuotere successo di pubblico nei confronti. Non mi candiderò alle politiche anche se dovessi perdere in Lombardia, lo ha detto il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, ieri sera nel corso di un incontro a Torino. Sarò senza paracadute, aggiunto, perché è giusto che sia così. E' polemica dopo i ritardi di servizi che ieri hanno paralizzato le ferrovie Lombarde. Il sistema informatico di Trenord, che gestisce i turni del personale, è andato in tilt paralizzando la rete. Regione Lombardia ha chiesto un rapporto ufficiale sull'accaduto. Trenord si è scusata con gli utenti spiegando che entro oggi il problema sarà risolto. La polizia ha arrestato quattro persone accusate a vario titolo di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo d'armi e ricettazione in merito al colpo avvenuto in una gioielleria in via della Spiga il 5 febbraio del 2011. Il colpo fruttò oltre 9 milioni di euro. Salgono così a 17 i malviventi in carcere per la rapina. Andrà i detenuti di San Vittore il ricavato della vendita dei biglietti omaggio del Comune di Milano per la prima della scala. Lo ha deciso ieri il Consiglio Comunale approvando una mozione presentata dal capogruppo di SEL Patrizia Quartieri. Il denaro, circa 200 mila euro, servirà a migliorare le condizioni delle persone recluse. De Rossi al Milan è impossibile, così l'amministratore delegato dei rossoneri Adriano Galliani a proposito delle voci sull'interesse del club per il centrocampista della Roma. Teniamo i nostri e sopperiremo all'assenza di De Jong con quelli che abbiamo in casa, detto Galliani, al termine di una serata di beneficenza. Grazie per la visione!